La casa delle sette donne, una grande produzione sudamericana arriva sui tv. I fatti sono ambientati in Brasile nel 1835 durante i moti rivoluzionari ai quali partecipò anche Garibaldi. Nei libri di storia brasiliana questa guerra è nota come la rivoluzione degli straccioni che durò dieci anni. La telenovela racconta gli anni filtrati attraverso gli occhi delle donne che ne furono protagoniste. Con età e caratteri diversi, le sette donne affrontano disagi, privazioni, amori, passioni e segreti. Una trama appassionante, ricca di colpi di scena, sentimenti e personaggi dal carattere forte. La casa delle sette donne è in onda dal lunedì 17 luglio sui tv alle 13 e alle 17.30.